www.marizopoli.it, la dematerializzazione delle quote delle SRL. Oggi, via definitivo al decreto, in aula al Senato, del decreto legge capitali collegato alla manovra, che questa norma riguarda la dematerializzazione delle quote, che rappresenta una svolta epocale nell'ecosistema degli investimenti, per quanto soprattutto per le start-up e le piccole e medie imprese. La materializzazione, che è stata approvata oggi, permette, in pratica, consentirà alle SRL, su base volontaria, di dematerializzare le proprie quote, ovvero di aderire a un regime che permette il trasferimento online delle quote solitarie tra venditori e acquirenti in maniera istantanea e costi ridotti. Questo è importantissimo per lo sviluppo delle nostre piccole e start-up che vogliono crescere. Quindi la dematerializzazione delle SRL è operativa. Qui il link. Alla prossima!